Un riprovevole atto vandalico ha interessato il cimitero di Garlasco. Qualcuno si è introdotto nell'area più antica del Camposanto profanando le tombe di due persone decedute negli anni 30. Il vandalo o i vandali hanno divelto le lapidi di queste due persone, hanno preso le urne che c'erano all'interno e le hanno rotte qua sul pavimento. Su questo pavimento erano sparpagliati i resti di queste due persone, i poveri resti mortali di queste due persone. Il tutto è stato scoperto da una persona che era venuta a pregare, era circa l'ora di pranzo nella tomba di famiglia qua accanto e ha visto lo scempio che era stato perpetrato. Il gesto sarebbe riconducibile forse a un tentativo di furto. Il vandalo probabilmente sperava di trovare dentro le urne qualche gioiello, anche se difficilmente negli ossari sono presenti ornamenti. Infatto ha naturalmente scosso la comunità garlaschese. In passato il cimitero di Garlasco era stato oggetto di furti di rame, ma mai erano avvenuti atti sacrileghi. L'amministrazione è pronta a intervenire potenziando la videosorveglianza, attualmente presente soltanto all'ingresso. Chiaramente è episodio da condannare, da stigmatizzare, cercheremo chiaramente di potenziare sempre più la sorveglianza intorno al cimitero e in modo particolare nel prossimo futuro è previsto un ampiamento con costruzione di locule e cappelle nella parte nuova del cimitero. Chiaramente essendo una gara pubblica, quindi andando in gara, questo appalto prevederà sicuramente delle migliorie, tra le migliorie ci saranno sicuramente l'impianto di telecamera. Già due anni fa avevamo studiato con la ditta che sta attualmente gestendo il cimitero un potenziamento dell'impianto, poi non si è potuto fare per una serie di ragioni, perché la legge è cambiata e quindi le concessioni non possono essere toccate e via discorrendo. Bisogna aspettare una gara nuova e quindi sarà l'occasione, nel momento in cui mandieremo la gara d'appalto per l'ampiamento, di inserire anche la parte che riguarda la sicurezza e le telecamere in modo particolare.